Ciao, sono la dottoressa Maria Guerriero ed oggi voglio parlarti di bevande sì e bevande no o meglio delle bevande da evitare se stai cercando di perdere peso indubbiamente al primo posto tra le bevande da evitare ci sono quelle zuccherate e quelle gassate perché oltre ad essere ricchissime di zuccheri contengono anche coloranti artificiali e conservanti nella lista nera però queste non sono le uniche bevande presenti ci sono anche i succhi di frutta pastorizzati oppure per esempio le bevande energetiche studiate per chi fa sport perché contengono non soltanto zuccheri ma anche conservanti e coloranti artificiali da evitare anche le bevande alcoliche perché devi considerare che un grammo di alcol contiene 7 kcal calorie che però hanno un apporto nutrizionale praticamente nullo infatti sono chiamate calorie vuote se proprio vuoi concederti un alcolico ti consiglio di bere un bicchiere di vino anziché scegliere i cocktail fruttati oppure i cocktail fatti con bevande gastate e insuccherate appunto cerca di evitare anche te infusi quelli già pronti in bottiglia perché altrettanto ricchi di zuccheri se invece hai voglia di bere un tè freddo puoi prepararlo a casa metterlo in frigo e berlo poi quando sarà freddo se hai bisogno di qualche altro consiglio commenta pure sotto questo video appena avrò un attimo ti risponderò ciao e a presto